Ordine, natura, forza, amore Perché Giove è più grande? Perché tuo padre è un avvocato L'ordine è il più importante in questa casa Ma a casa nostra Marte è tre volte più grande degli altri dei Perché io ho sposato un guerriero Perché voi due non avete figli? Insomma, ci sono gli orfani come tu e papà Forse se io cambiassi lavoro La vita che faccio ora è poco adatta ai bambini E' anche poco adatta agli adulti Tu non fai altro che Schettlazan? Oh, allora perché mi ami disperatamente? Non lo so neanche io Ciao, Adelfemur